Ciao e benvenuti tutti in questo nuovo video. Oggi in pratica non è proprio un video, è come una di quelle serie tv che dovrebbe continuare anche per qualche giorno. Oggi non sono a casa, ma sono a Roma. Non è proprio una vacanza perché siamo venuti qua a Roma perché dovremmo rinnovare i nostri documenti all'ambasciata indiana e così siamo venuti qua. E in più vorremmo trascorrere qualche giorno a Roma. Questo è il nostro hotel, è in pratica tipo un convento di suore e questo è il loro giardino. E' bellissimo e in più una cosa, non ho mai visto delle piante di kiwi. Ora vi racconto un po' il nostro viaggio. A causa del covid non siamo potuti andare molto spesso in aereo. Quindi questa era la mia prima volta che ci sono state di nuovo e ci sono stati molti cambiamenti a causa del covid. Era un viaggio sempre con mascherine, con aspetti, dobbiamo sempre aspettare quel turno, queste cose qua, senza affollamenti, non fare queste cose che facciamo sempre, come prima. E questa volta in più i nostri bagagli sono un po' più pesanti perché dobbiamo portare le cose nostre, cioè disinfettanti, fazzolettini, maschere di riserva e in più abbiamo una mascherina che dobbiamo stare tutto il tempo, 24 ore su 24 quasi. Musica 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Quindi è tutta una confusione, infatti io fino all'ora dall'aeroporto fino ad arrivare all'aeroporto al treno fino a qua stavamo sempre attenti. Aspetta, Isa, dimmi se hai fettato le mani. Aspetta, alzate la mascherina, Isa. Dobbiamo sempre prestare attenzione, in un certo senso abbiamo tutto il tempo impegni. E l'hotel è carino, cioè molto bello e comodo. E come vedete qua è un bellissimo giardino, vedete? Grazie a tutti. 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 E mia madre dice una cosa. E questi sono i nostri piani. Quindi ora, questo è il primo video di questa, tra virgolette, serie e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Ciao! Stai attenzione! Stai attenzione! Grazie a tutti. Grazie a tutti.